Ragazzi benvenuti a tutti in questo video di backtest, so che a voi piacciono tanto perché ovviamente sono pieni di informazioni e sono i video dove veramente si va a migliorare e a mettere in pratica tutte le cose, tutte le conferme che vediamo video per video perché prima di operare ovviamente dobbiamo specializzarci in ogni conferma che utilizzeremo nella checklist e sono i video che piacciono fare anche più a me perché mi diverto ma c'è tanto lavoro dietro e impiegano molto più tempo degli altri, per questo vi chiedo subito di lasciare un like che magari a voi non cambia niente, a me fa una differenza enorme e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati Andiamo subito a grafico a vedere prima la checklist per sapere che conferme dobbiamo utilizzare e in che modo e dopo andiamo a backtestare EURCAD per ben 5 mesi, partiremo ad aprile fino ad oggi Andiamo a grafico Per chi mi conosce già sa che io trado tantissimo a price action e che per me è fondamentale nel trading a quel tassello che una volta imparato, una volta che acquisisci la skill non ti toglierai mai perché poi insieme alla price action possiamo aggiungerci mille altre conferme come le manipolazioni di mercato, gli schemi istituzionali e specializzarci in tante altre cose ma quello che rimarrà per sempre, quello che il mercato rispetterà sempre anche se magari negli anni con piccole variazioni è la price action, l'azione del prezzo Per chi ha visto già diversi video con me sul backtest la checklist è più o meno sempre la stessa perché ovviamente ragazzi un trader una volta che sa tradare in un modo e che sa guadagnare in un modo perché deve cambiare modo di operare? Una volta che conosciamo la price action utilizziamo bene quella perché su youtube vedo un sacco di persone che piuttosto di portare il contenuto nuovo si inventano nomi strani con concetti magari già esistenti ma li reinventano con nomi nuovi solo per portarti quel concetto in più e per avere sempre il video da fare ma se facessi così ragazzi vi complicherai solamente la vita perché se ci vuole una cosa nel trading è la pulizia mentale, avere il mindset giusto e non avere confusione quindi se avete confusione mentale, avete disordine è perché magari state cercando di imparare mille concetti e ahimè magari da persone anche che su youtube senza voler parlare male di nessuno perché io non parlerò mai male di nessuno, ognuno è libero che faccia quello che vuole fare e il trading è bello perché vario e si può guadagnare in mille modi però ci sono persone che portano veramente concetti con nomi inventati che magari hanno testato una volta un secondo prima e ogni giorno vedi che cambiano concetti, avranno portato un centinaio di concetti, io non so come operano perché bastano quei 5-6 concetti utilizzati bene che ci fanno conoscere il mercato bene per andare a guadagnare nel trading, non sto dicendo con questo che sia facile, assolutamente no bisogna specializzarci in quei concetti che andiamo a studiare, ma se conosciamo bene la price action, quello che vogliamo far noi è conoscere bene tutti i time frame la big picture del mercato, contestualizzare, analizzare multi time frame, allora possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni a mercato quindi la prima cosa che voglio avere è la visione multi time frame a mio favore, ovviamente è una conferma che vale per 10 perché facendo un riassunto cosa vuol dire? Vuol dire capire come si muove il mercato, cercare di capire come si muove il mercato dal monthly utilizzando i time frame grossi per la visione long term perché ci danno molto più al statistico dei time frame più piccoli una candela del monthly vale molto di più rispetto ad H1 che vale un'ora, rispetto al monthly che vale un mese, molte più informazioni quindi ci danno molta più statistica e visione long term, ma i time frame più piccoli ci danno molta più precisione perché se mi dovessi affidare solamente al monthly o al weekly entrai a mercato con 500 pips di stop loss invece con la precisione dei time frame piccoli magari mi posso prendere i rally anche del monthly o al weekly o al daily avendo visto la visione dei time frame alti e conoscendo, avendo capito cosa potrebbe fare il mercato ma entrando a mercato e sfruttando la precisione delle candeline dei time frame più piccoli come se utilizzassi soli time frame più piccoli non ci capirei niente perché questo è un errore che fanno in tanti perché voglio avere la visione multi time frame a mio favore perché tante persone magari che si reputano trader intraday vedono questa situazione qua su H1, faccio spesso questo esempio dove potrebbero avere tutte le loro conferme per comprare qua loro vanno a comprare perché il setup gli sembra perfetto, hanno tutte le conferme per comprare e poi cosa succede? Il mercato fa questo, gli fa un temporale profit e poi vanno in stop loss e loro dicono cavolo mi ero a favore di trenzo H1, avevo la ritest di struttura, Fibonacci perché sono andato in stop loss? Perché questo è H1 però se noi non capiamo la big picture, non capiamo tutta la visione multi time frame del mercato magari non avevamo neanche visto che sul daily eravamo in questa situazione qua e stavamo comprando qua sopra quindi comanda sempre il time frame più grosso, se io magari su H1 ho tutte le mie conferme ma sono qua sopra ovviamente il mercato sul daily, siamo alla fine di un'estensione, dovrà riposare, andare a ribasso per poi continuare a andare a rialzo, quindi se non avessi visto il daily io avrei comprato qua e sarei andato in stop loss ecco perché devo guardare tutti i time frame, anche se trado intraday, devo capire cosa succede sul monthly, sul weekly, sul daily come magari chi trada H1 e magari va di fortuna la prende anche qua in basso ma si mette un take profit qua perché non ha visto che il mercato poteva dargli molto di più grazie ai time frame più alti la dominance deve essere a favore nel time frame in cui opero cosa vuol dire anche questo? Che posso essere rialzista? Facciamo sul monthly, ok? o sul weekly, il time frame che volete, anche qua che molti mi chiedono Gabri ma se sono rialzista sul monthly o sul weekly cosa devo fare? devo per forza comprare? Quindi dobbiamo aspettare due anni che il mercato torni qui per comprare? no, appunto, perché tanti fanno confusione sul trend che sembra una delle cose più facili però se contestualizziamo non è tanto facile, in senso molti dicono ah ma io sono rialzista sul monthly, rialzista sul weekly, ribassista sul daily, rialzista su H4 ribassista su H1, cosa sono? Cosa sta facendo il mercato? se sono ad esempio rialzista sul monthly devo avere la dominance a mio favore nel time frame in cui opero questo riposo che il monthly ci farà a ribasso magari, lo ripeto spesso ma è importantissimo sono 400-500 pips a ribasso che ci può fare il mercato il riposo a ribasso del monthly che ricordiamo è rialzista la dominance magari sul monthly è rialzista da qua perché da qui è partita l'ultima emissione che ci ha rotto quest'ultimo massimo quindi siamo rialzisti ma il riposo a ribasso è un trend ribassista sicuramente nei time frame più piccoli su H4 ad esempio questo che vi ho cerchiato del monthly, questo qui, è un trend ribassista su H4 quindi io posso entrare short in mezzo se la dominance è ad esempio ribassista su H4 magari mi ha fatto una cosa così, la dominance era rialzista da qua, qua sopra, ha invertito questi buyers mi sono stati rotti, abbiamo iniziato ad avere un trend ribassista e una dominance ribassista posso entrare short qua in mezzo con che consapevolezza? con la consapevolezza che il massimo del mio take profit sarà dove comanda il monthly perché una volta arrivato qua al mercato potrebbe continuare il trend rialzista non ci dimentichiamo che nei time frame più grossi eravamo rialzisti quindi non vado a farlo sborone a mettermi il take profit qua sotto perché comanda il monthly rispetto a H4 e il mercato potrebbe reagirmi a rialzo il trend a mio favore, stessa cosa che abbiamo visto nel time frame in cui io opero come abbiamo visto ora per la dominance, stessa cosa, contestualizziamo e cerchiamo di capire cosa stiamo facendo, in che momento stiamo entrando a mercato con questa strategia possiamo tradare sia intraday che scalp che swing io principalmente trado swing, intraday barra swing perché avendo appunto la visione dei time frame alti cerco se ho la possibilità di prolungarmi le entrate che faccio anche nei time frame più piccoli quindi non so se l'avete già sentito il classico intraday to swing, scalp to swing ovvero prendo l'entrata nei time frame scalp o intraday con la precisione di questi time frame ma la porto più a lungo termine poi ovviamente se voglio prendermi un riposo che ne so anche di H4 siamo rialzisti su H4, questo qui è H4 e io mi voglio prendere questo riposo a ribasso stessi concerti che abbiamo visto prima, il mercato è frattale dobbiamo distinguerli questo riposino su H1 me lo posso prendere intraday sapendo che poi il mercato può reagirmi e andare a rialzo quindi conoscendo poi tutto il mercato grazie alla frattalità di mercato a sapere come si muove anche nei diversi time frame posso entrare intraday se ho l'opportunità, scalp se ho l'opportunità ma se posso, se ho la visione di time frame grossi a mio favore, swingarla per bene poi entriamo su movimenti barra schemi istituzionali oltre alla price action, conoscendo, ho fatto video su tutto quello di cui parlo adesso nel canale trovate tutti i video conoscendo come le banche manipolano il mercato quindi gli schemi di accumulo, distribuzione come entrare sulle cacce, sui test interni, le mitigazioni, break the ice, jump the click possiamo applicare questi concetti nella nostra checklist ovviamente insieme alla price action perché la price action è l'argomento cardine, forte della checklist che dovrebbero avere tutti, secondo me poi in più possiamo aggiungere gli altri argomenti e ovviamente entreremo sui missioni importanti ad esempio su buy to sell o sell to buy le buy to sell o le sell to buy sono le ultime candeline sell prima del buy che va a rompere a rialzo delle strutture importanti o le ultime candeline buy prima del sell che va a rompere le strutture importanti e molto spesso arrotondo la mia entrata con o livelli psicologici o la number theory perché il 20,50,80 che fa parte della number theory sono i numeri più testati dal mercato quindi piuttosto che perdermi un'entrata ad esempio se ho un'entrata in questo punto qua c'è la mia sell to buy e vado a tirarmi la semiretta a caso la facciamo così vado a vedere i livelli se ho 747,53 ecco questo è vicino al 50 potrei lasciare 50 ma solitamente arrotondiamo in negativo anche un po' più sopra all'80 perché molte volte cosa mi è successo in passato che il mercato mi faceva questo io avevo l'entrata poco più sotto e il mercato mi reagiva prima perché reagiva su questi livelli qua sarà capitato anche a voi tante volte magari di mettere un pendente e di perdervi una possibile bella operazione per un piccolo movimento quindi cerco di arrotondare con livelli psicologici o number theory ovviamente utilizzeremo tanto gli ordini pendenti io lavoro solo con ordini pendenti e questa è una strategia che vi chiede veramente poco tempo perché puoi mettere i tuoi ordini pendenti a quora vuoi operando la maggior parte delle operazioni per lo swing non devi stare tanto a mercato devi starci veramente poco è la strategia migliore sia per chi lavora sia anche per chi come me fa già questo di lavoro perché non voglio stare tutto il giorno al computer se no non avrei mai iniziato questo business conferma aggiuntive ovviamente al livello di Fibonacci strutture, inefficienze sono tutte cose che vengono ad esempio Fibonacci è una cosa in più è normale che se compro i minimi o vendo i massimi se lo faccio bene con la testa ci sia un livello di Fibonacci strutture ovviamente anche a livello di pre-section magari strutture rotte che devono essere testate insieme alle nostre conferme e magari inefficienze guardiamo i livelli di stop loss vanno sopra o sotto la nostra candelina buy to sell o sell to buy e i livelli di take profit dipende da contestualizzazione dipende se stiamo prendendo un'entrata intraday quindi un ritracciamento piccolino se stiamo prendendo un'entrata swing o scalp andiamo su Eurcad così iniziamo a vedere tutti questi concetti il video ovviamente sarà più lungo del solito ragazzi ma è normale perché faremo 5 mesi di analisi su Eurcad e prima io voglio fare le cose bene i video li voglio fare bene voglio spiegarvi tutto perfettamente ovviamente prima abbiamo dovuto perdere che per me non è tempo perso ma anzi guadagnato vedere ovviamente tutta la checklist e spiegarvi bene tutte le conferme riassuntive perché ripeto sul canale trovate video su ogni conferma che vi sto mostrando adesso ok oggi è il 5 settembre quindi backtesteremo 5 mesi andiamo subito al 5 aprile mettiamo il replay e vediamo come va ovviamente vediamo prima i time frame più alti partiamo ad esempio dal weekly vediamo cosa sta succedendo qui siamo in un trend rialzista cosa sta succedendo? il mercato qua ci ha fatto un massimo più grosso del precedente qua è arrivato in questa zona dove doveva colmarci l'inefficienza e ce l'è andata a chiudere vediamo qua praticamente tutta ha chiuso l'inefficienza ha riposato si vede anche dal momentum i buyers come sono andati su potenti i sellers vanno giù nel classico movimento a zig zag più debole hanno riposato e dopo che sono arrivati in questa zona stanno ripartendo più forti perché? non perché lo dico io ma ce lo sta dicendo il mercato dobbiamo sempre ascoltare il mercato ci hanno fatto un massimo più grosso anche del precedente qua quindi stanno iniziando ad andare a rialzo qui hanno appena fatto la stessa cosa che abbiamo visto qui in precedenza vedete come qui ci avevano chiuso l'inefficienza e poi sono partiti a rialzo qui uguale ci hanno chiuso questa inefficienza per chi non la vede ve la zoom un attimino e ora stanno ripartendo a rialzo con un bel engulfing siamo sul weekly quindi a livello statistico c'è molta probabilità dopo un engulfing che il mercato poi ci vada a rialzo vediamo che qui avevano accumulato della bella liquidità con dei minimi uguali ora qua siamo sul weekly quindi magari vi sembrano anche pochi ma il mercato veramente è venuto tante volte in queste zone ci è andato a cacciarla e qui sono tornati ora a chiuderci l'inefficienza potrebbero andare a rialzo scendiamo di time frame eliminiamo un attimo tutto andiamo sul daily se andiamo sul daily vediamo tutto meglio ora lasciamo andare avanti il mercato scendiamo su h4 e vediamo un attimino ora qui potremmo comprare perché vedete dai time frame grossi abbiamo visto che siamo in una bella zona unica cosa ci deve dare l'opportunità al mercato io qua non vedo grosse opportunità da parte del mercato non mi fa impazzire per ora perché si sta muovendo senza lasciarci tante opportunità di ingresso perché entrare qui a caso non ha senso ovviamente bisogna avere calma nel trading aspettare l'operazione e poi entrare quando il mercato ci dà la possibilità non è un gioco d'azzardo non cerchiamo di farcelo diventare un gioco d'azzardo e non ci pagano più operazioni facciamo bastano anche magari quelle due che ci fanno svoltare il conto se operiamo bene quindi con calma e aspettiamo il mercato qui già siamo troppo in alto per comprare perché vediamo che appunto come dicevamo prima cerchiamo di entrare al mercato in dei punti con un senso non vado a comprare qua in alto quando il mercato ci ha fatto tutta questa estensione e potrebbe riposare la visione generale potrebbe essere sempre long ma nel momento giusto potrebbe riposare per poi andarci a rialzo ovviamente dove potrebbe arrivarci? poi qua c'è una bella zona di demand da dove parte il mercato anche qua ci deve colmare l'inefficienza quindi potrebbe arrivarci in futuro qua e ovviamente poi ci aspettiamo magari se ci arriva qua in futuro un cambio dominance anche qua lo dico sempre non è che mi arriva in quella zona e compro perché saremo contro trend il mercato sarà ribassista quando arriverà qua ci aspettiamo magari un cambio dominance per comprare se ce lo dà e se arriva in quella zona quindi qua per ora non voglio comprare magari se ci inizia a diventare ribassista cerchiamo un'entrata short ok lasciamo andare avanti vediamo un attimino che il prezzo qua sta rallentando ci sto facendo questo range che potrebbe essere benissimo una distribuzione ok caccia test e via nei time frame più piccoli potrebbe essere benissimo uno schema di distribuzione perché il mercato quando deve spostarsi cambiare trend come in questo caso era rialzista iniziare senza cambiare trend del tutto ma iniziare ad andare verso l'altra parte quindi verso il ribasso ha bisogno di benzina di liquidità e quindi molto spesso ci fa gli accumuli distribuzioni lasciamo andare avanti ok qua non ci dà tanta opportunità d'entrata è bello potente il mercato vediamo un attimino cosa ci fa sta andando verso la nostra zona non ci è ancora arrivato a chiudere l'inefficienza che la facciamo meglio è qua sotto eccola qua ok ci ha reagito a rialzo secondo me però è un po' troppo presto per comprare perché il mercato quando riposa ritraccia per chi vuole il termine più tecnico deve appunto fare delle commissioni le chiamo io ovvero chiudere inefficienze strutture qui secondo me deve arrivare qua in basso quindi io non andrei a comprare ancora adesso vediamo un attimino anzi se poi ci cambia magari andrei a vendere se ci cambia la dominance ok qua ci ha rotto ragazzi questo potrebbe essere vedete il classico movimento di estensione potente rialzo e il riposo più a zizzag con massi meno e più piccolini potrebbe arrivarci qua sotto vediamo un attimino nei time frame più piccoli perché la dominance adesso è ribassista perché qua questi sellers la facciamo tutta questi sellers qua che comandavano sono stati rotti da questi buyers era rialzista l'ultimo massimo ci è stato rotto da chi da questi buyers dobbiamo vedere molto ragazzi le chiusure con il corpo non prendiamo i rifiuti il corpo lo andiamo a tracciare era questo rotto da questi buyers che sono stati rotti a loro volta dai sellers facciamo la dominance bene ho fatto un video anche su questo sul canale quindi iniziamo a essere ribassisti però questa candela qua su h4 io non la andrei a prendere perché è piena di spike cerchiamo sui time frame più piccoli di capire un attimo meglio h2 piccolina h1 ah h1 questa molto bella qui c'è questa struttura che il mercato non riusciva a rompere che ci viene poi rotta da un'immissione che parte da qua quando dico appunto l'entrata sull'immissione intendo questo qui ci viene a rompere dobbiamo chiederci da dove parte l'ultima emissione in questo caso buy to sell che ci va poi a rompere andiamo a prendere questa candela qui come abbiamo visto prima andiamo a tirare la semiretta perché questa è l'ultima buy prima dello short che ci rompe number theory vedete 90 vado a arrotondare un po' in negativo anche se è un po' più sotto all'80 ma almeno magari non me la lascio scappare l'entrata qui lo stop come abbiamo visto prima dobbiamo usare le regole al 100% non sgarrare sopra la nostra candelina che abbiamo scelto il take profit appunto vi dico potrebbe arrivare in questa zona qui abbiamo visto vediamo un attimino per sicurezza dove possiamo metterlo senza fare i sboroni ragazzi perché questo è un riposo che stiamo prendendo ricordiamoci che nei tempi più grossi siamo rialzisti questa struttura qua magari dove si appoggia più volte il mercato senza dover arrivare lì giù per forza vediamo che livelli ci sono qua qui c'è il 46,200 dove si è appoggiato più volte il mercato quindi potremmo mettercelo qua si si poteva mettere anche qua sotto e facevamo magari un po' di più se ci va a take profit e se ce la prendo ovviamente però il mercato si appoggia più volte qua io preferirei per sicurezza tenerlo qua ma andiamo avanti vediamo se ce la prende o se ci va in stop sta reagendo non sulla nostra zona prima ok sta consolidando sta accumulando liquidità qua sopra un pattern che ci fa molto spesso ci ha preso l'entrata ha reagito molto bene vedete andiamo di team frame un attimo più sotto ci ha accumulato della bella liquidità qua sopra per poi andare a cacciarla fanno sempre questo pattern quindi vi può sembrare solamente un ritest della buy to sell ma nei team frame più piccoli c'è sempre un motivo c'è sempre la liquidità lasciamo andare avanti bella engulfing ci ha poi reagito di nuovo su questa candelina con rifiuto per chi si fosse perso l'entrata take profit molto bene anche se ci è andato ancora più giù dove avevamo visto noi ok nella zona più sotto dove c'era la zona di demand eliminiamo un attimo qua tanto scriviamo ci abbiamo preso un 1 a 6 preciso mettiamo come rischio il 2% rischio medio l'1 è conservativo il 2 medio il 3 è aggressivo un 2% di rischio quindi in caso di stop loss era un meno 2 con l'1 a 6 e qua questa operazione abbiamo fatto un più 12% di profit ok con le conferme che abbiamo visto prima potevamo fare un po' di più sì ma non stiamo a rosicare ragazzi perché sennò se iniziamo a mettere le emozioni in mezzo iniziamo ad incazzarci anche se prendiamo take profit ci mettiamo veramente contro il trading perché dobbiamo essere meno emotivi possibili abbiamo preso il nostro profitto amen ci avrebbe potuto reagire magari qua e partire a rialzo se avessimo messo il take profit qua ci saremmo persi tutto il profit va benissimo così non scherziamo quindi più 12% adesso però le cose cambiano perché da questa zona qua dicevamo guardiamo i time frame più grossi che vediamo una zona di demand anche qua se guardiamo il daily ad esempio c'era l'ultima candelina vedete sono sempre i stessi concetti sell prima del buy che ci ha andato a rompere questo massimo precedente quindi da qua è partita un'immissione molto importante che ci ha rotto questa struttura potrebbe il mercato reagirci ovviamente non andiamo a comprare direttamente qua uno perché compreremmo molto male dovrei mettere uno stop qua sotto non avrei precisione quindi mi prenderei tutto questo movimento per un 1 a 2 e secondo motivo perché non devo tradare quello che penso io ma quello che vedo il mercato mi deve cambiare dominance prima di andare avanti visto che me lo chiedete sempre in tantissimi vi rispondo velocemente se faccio formazione 1 to 1 si la faccio con un numero limitato di ragazzi ovviamente perché più di un tot non riuscirò a seguirli e voglio seguire i ragazzi che seguono 1 to 1 bene al 100% e oltre alle 1 to 1 i ragazzi che fanno questo percorso solo loro non lo do a persone esterne hanno Discord dove vado a fare due live a settimana quindi si possono vedere in diretta analizzare insieme se no rimangono tutte registrate per chi non riesce a vederle infatti già ci sono decine decine di ore registrate oppure per chi riesce le facciamo live e ci sono varie sezioni come l'idea di trading dove tutti i ragazzi mandano le analisi si possono andare a vedere poi durante la chiamata ovviamente trading chat dove tutti i ragazzi fanno domande chiedono e la sezione risultati e feedback dove io pubblico e i ragazzi pubblicano tutti i risultati che hanno avuto durante il percorso quindi adesso proviamo a vedere cosa succede se il mercato inizia a andarci a rialzo o magari ci rompe va ribasso non sempre fa quello che pensiamo noi e quello che vediamo ci reagisce nella nostra zona eliminiamo un attimo tutto per fare le cose precisamente ci è andato praticamente a chiudere tutta l'inefficienza qua quindi il suo lavoro l'ha fatto la dominance è sempre short ok qua la dominance è diventata long attenzione perché il mercato ci sta reagendo nella nostra zona rialzo vi ricordo ora non salgo di time frame se no potrebbe spoilerare che se guardiamo le macro strutture c'era questo massimo minimo massimo più grosso questo è un minimo più alto potrebbe reagire la dominance ce l'ha cambiata quindi le nostre conferme ce le date anche su h4 adesso vediamo che questi buyers ci hanno rotto tutto stavano comandando ok facciamo bene la dominance questa era la struttura precedente rotta da questi sellers stavano comandando loro sono stati rotti dai buyers ok quindi la dominance è diventata rialzista fatemi eliminare tutto facciamo un po' le cose precise adesso mi vado a chiedere da dove parte l'immissione che mi rompe le ultime strutture qua c'è quest'ultima sell prima del buy che è mandato a rompere questi massimi che su h4 magari non si vedono bene ma se scendiamo su h1 si vede ancora meglio da qua parte l'immissione che mi ha rotto questa struttura il mercato potrebbe tornare a testarla io terrei questa di h4 perché è bella piena col corpo quella che vogliamo noi è bella piena di volume semiretta impostazioni 85 arrotondiamo negativamente al 463 l'entrata la mettiamo qua sopra lo stop lo andiamo a mettere sotto il rifiuto il take profit qua ecco vedete cosa cambia quello che vi dicevo prima nella checklist qui prima abbiamo preso uno short essendo consapevoli che era un riposo del daily ok era questo riposo quindi abbiamo preso un'entrata in intraday che comunque è un 1 a 6 perché l'abbiamo presa bene visto che sappiamo entrare al mercato precisamente c'è uscito con 1 a 6 qui è diversa la situazione qui so che invece siamo a favore del daily dei time frame più grossi qui potrebbe fare addirittura un massimo più grosso del precedente se non arrivare qua comunque in questa zona dove è pieno di liquidità guardate quanti massimi uguali quindi qua possiamo invece swingar c'è la vedete come dobbiamo contestualizzare un attimo la situazione questa può essere la mia entrata mettiamo ad esempio un take profit qua dai massimi lo mettiamo bene c'è il 476 tondo lo mettiamo qui ovviamente ragazzi nel trading in tempo reale io parzializzerei cioè parzializziamo ragazzi non prendiamoci solo un take profit perché magari il mercato ci fa questo poi ci torna contro non ci prende il take profit perdiamo un sacco di profitto prendiamo profitto piano piano quindi metterei diversi take profit qui per fare backtest ne metterò solo uno almeno riusciamo a fare i calcoli bene quindi lo mettiamo lì dai massimi dei time frame più alti andiamo avanti vediamo se ci torna nella nostra zona ok sta riposando c'è tornato ce l'ha presa e qua c'è andato il stop si ci ha preso lo stop stop qui vediamo un po' cosa avrebbe fatto e poi andava andava a rialzo la direzionalità era giusta ha fatto un massimo più grosso ci ha sporcato l'entrata quindi qua stop e abbiamo perso un 2% fa parte del gioco non arrabbiatevi se prendete stop è normale nel trading perdere delle operazioni nessun trader al 100% di win rate come in ogni lavoro ci sono le uscite nel trading sono gli stop loss e le entrate che però sono molto più grosse vedete qua abbiamo preso una 6 abbiamo fatto un 12 potremmo perdere anche 5 operazioni perderemo un 10% siamo sempre in profitto questo fa parte del gioco e noi guadagniamo dei soldi con la matematica rischio rendimento e legge statistico qua abbiamo perso meno 2% eliminiamo un attimo tutto così andiamo avanti facciamo andare avanti il mercato ora siamo rialzisti io vedo ora un bel rialzo perché vi ricordo come siamo messi nel weekly massimo minimo massimo più grande siamo qui potrebbe il mercato esploderci a rialzo anche perché sul weekly deve colmarci tutta questa inefficienza che ci ha lasciato prima quindi andiamo avanti vediamo cosa ci fa il mercato elimino un attimo l'entrata almeno siamo più puliti qua comunque abbiamo perso un 2% poi dopo facciamo tutti i calcoli andiamo avanti ok qua ci sta riposando qua ci ha rotto questa struttura siamo in un bel trend rialzista e qui di nuovo mi vado a chiedere chi mi ha rotto questo massimo che poi se andiamo a vedere il mercato a memoria ovviamente era una bella struttura ok guardate quante volte il mercato rimbalzava qua e quindi visto che sono riusciti a romperlo questi buyer sono molto potenti anche qua vado a prendermi l'ultima candelina sell prima del buy che mi è andato a rompere tutta questa zona quindi vado a prenderla qua lascio questa perché è bella piena col corpo già impostazioni 467.08 facciamo i 20 un po' più sopra mettiamo la nostra entrata lo stop sotto sempre la nostra candelina il take profit stesso di prima lasciamolo comunque da questi massimi del daily e dei time frame più grossi dove c'è tanta liquidità poi lo andiamo a mettere meglio ok vedete è per questo che non tiro neanche fibonacci a scontato che se tiro fibonacci dal minimo al massimo ci sia un livello tipo ecco il 71 abbiamo qua spaccato perché se compriamo bene nei minimi o vendiamo i massimi ci deve essere fibonacci ok qua niente va sopra io qua la toglierei perché c'è la ci ha rotto ormai un altro massimo magari lasciamola ancora un attimo vedere se ci torna ok e qua e qua ci è andato a rompere ok ora la toglierei perché adesso la dominance è proprio cambiata di nuovo nel senso che questi seller ci avevano rotto questi ultimi minimi e sono stati rotti dai buyers anzi io sposterei l'entrata e ne metterei una qua invece da questa candelina qua l'ultima sell prima del buy anche qua arrotondiamo velocemente 306 facciamo 320 ok stop sotto il rifiuto e anche qua vediamo il target può essere anche dall'inefficienza che abbiamo messo sopra adesso visto che siamo in alto vediamo un pochino ce l'ha sfiorata qua e è andato a rialza non ce l'ha presa neanche qua però sono contento perché comunque abbiamo sempre per ora azzeccato la direzionalità anche qua che abbiamo preso stop l'abbiamo preso per pochissimo il nostro stop loss era qua sotto e poi il mercato ha fatto quello che volevamo noi e qui non ce l'ha presa per pochissimo ma anche qua abbiamo aspettato il cambio dominance e era giusta la direzionalità diamo un ottimo un occhio ai time frame più grossi vediamo cosa è successo vediamo qua che sul daily cosa ci ha fatto ci ha ritestato questa struttura che avevo tirato anche vedete eliminiamo un attimo tutto qua questa struttura qua rotta ritestata e adesso sta continuando a rialzo quindi la nostra visione era giusta ora però vediamo un pochino un pochino quello che ci vuole fare il mercato per me devono andarci a colmare tutta questa inefficienza o almeno se non tutta al 50% quindi devono ancora salirci vediamo un pochino dove è al 50% ecco dove ho messo la semiretta io qua quindi almeno qua sopra devono arrivarci secondo me ma andiamo avanti sul nostro h4 che è il time frame un attimo che guardiamo di più qui non ci dà opportunità d'entrata ha lateralizzato molto io qua non entrerei sinceramente siamo un po' troppo in alto ragazzi ora per entrare perché il mercato deve riposare lasciamo andare adesso potrebbe iniziare a riposarci verso lo short perché ci ha chiuso l'inefficienza ecco il 50% anzi ragazzi guardate qua con lo spike ce l'ha chiusa quasi tutto lasciamo andare avanti il mercato ha iniziato a essere ribassista qua però non ci dà grosse possibilità di vendita vediamo un attimino se ci inizia ad andare a rialzo qua arriva a rialzo ok secondo me devono ancora scendere perché siamo comunque troppo in alto stanno solo consolidando ci è arrivato ancora più in alto stanno consolidando qui io non sarei mai entrato ragazzi quando il mercato si muove così meglio non entrare cioè o entri in tutti questi schifo di spike ragazzi o anche qua io aspetto l'entrata non mi corre dietro nessuno dobbiamo capire questo questo è solo un pair di quelli che un trader analizza poi un trader ne può guardare 4, 5, 10 io ne guardo tanti a parte quelli che si muovono in sessione asiatica e quindi se non mi dà l'opportunità perché devo entrare ci sono altri pair comunque delle belle entrate le abbiamo fatte io qua non entrerei mai perché vedete stiamo avendo molto male qua ci ha rotto a ribasso e se scendiamo se saliamo sul weekly scusatemi siamo di nuovo in un momento dove io mi aspetterei semmai una compra perché siamo sempre rialzisti massimi e mini più grandi vedete com'è importante guardare tutti i time frame li elimino qua e qui c'è un'altra zona di demand da qua parte l'immissione che ci ha rotto tutti questi massimi precedenti vedete questi massimi qua ce l'ha rotti un'immissione che parte da qua quindi qua in questa zona potrebbe il mercato poi reagirci per farci un nuovo massimo a rialzo quindi io mi aspetto che il mercato semmai mi arrivi ancora un po' più in basso e che mi cambi dominance però ovviamente perché se no non sto a comprare andiamo avanti ok siamo belli ribassisti potrebbe volerci pulire anche la liquidità ragazzi che non è solo statica ma anche dinamica qua c'era un bel po' di liquidità quindi potrebbe arrivarci giù fatemi rimanere le strutture a pulircela vediamo un pochino che cosa si può fare sono belli in basso aspettiamo che ci cambino dominance qua forse ce l'hanno cambiata stanno iniziando ad essere rialzisti perché questo minimo era stato rotto da chi? da questa emissione short che ce lo va a rompere qua ce n'era poi un altro qua questo minimo qua che era stato rotto anche questo da questi sellers col corpo sono stati rotti dai buyers ora qua c'è quest'ultima candelina sell nera prima del buy che va a rompere lo vediamo meglio anche sui time frame più piccoli già quella candelina era molto carina vediamo che siamo iniziando ad essere un trend rialzista quindi io qua proverei a comprare perché abbiamo visto anche nei time frame più grossi che siamo in una zona dove potrebbero iniziarci a reagire al rialzo e qua si potrebbe prendere anche bella swing quindi io metterei l'entrata qua su h4 per stare tranquilli perché la candela è un po' più corposa 25 50 un po' più sopra lo stop sotto il minimo e qua ci potrebbe reagire e vediamo un attimino se ce la prende magari sono così potenti che non ce la vanno neanche a prendere vediamo bene per un take profit eliminiamo un attimo qua visto che siamo rialzisti si potrebbe mettere un take profit anche direttamente qua dal massimo visto che stiamo per prendere un'operazione swing scendiamo un attimino vediamo io ne metterei diversi vi dico la verità anzi la terrei ancora più aperta del massimo vedete che comunque non avremmo non abbiamo magari con questa strategia al 100% di win rate comunque abbiamo un bel win rate solidamente un 60 70% poi vedremo oggi che è ottimo comunque già con una 3 sarebbe ottimo ma noi operiamo con rischi rendimento veramente più grandi perché sappiamo appunto entrare nei mercati entrare con precisione nei time frame più piccoli e portarla a lungo termine va bene la mettiamo magari mettiamo solo un take profit o qua da questi massimi o a chiudere l'inefficienza mettiamola direttamente dai massimi dal massimo qua sopra perché secondo me ci può fare anche un massimo più grosso perché se ora non vado su weekly per lo spoiler ma ci ha fatto un massimo più grosso un minimo più grosso del precedente potrebbe farci un massimo più grande mettiamola qui mettiamo il take profit qua sopra dal massimo ok qua sopra mettiamo che c'è il 49 1,49 tondo e io lascerei qua sempre se ce la va a prendere e se non ci va in stop loss ecco qui ci ha preso l'entrata grazie alla number theory ce l'ha presa precisa sul livello se non avessi messo la number theory non me l'avrebbe presa ma tanto poi ce l'ha andata a riprendere giù ok ci ha reagito molto bene ragazzi molto bene ha cambiato proprio trend quello che volevamo noi i buyer sono iniziati a essere belli potenti lo vediamo anche dal momentum più forte dei buyers rispetto ai sellers avrei messo un'entrata qui su quest'ultima candelina sell prima del buy che ci è andato a rompere questi massimi sempre per gli stessi concetti questi massimi qua ce l'ha andato a rompere questa immissione però qua l'aveva già testata quindi è inutile che la metto ora perché qua l'ha già testata questa candelina lasciamo andare avanti ora qua c'è un bel trend a rialzo bene il nostro take profit ancora non ce l'ha preso qua dal massimo ci ha chiuso quest'inefficienza però sono belli potenti preso il take profit qua ragazzi abbiamo preso un'operazione della madonna qua abbiamo preso un 1 a 10 39 facciamo finta 1 a 10 arrotondiamo abbiamo fatto un 20% con questa operazione ragazzi rischiando il 2 ovviamente tanta tanta roba per questo che dico è importantissimo io ci ho messo più tempo magari di altri a conoscere il trading bene perché ho voluto specializzarvi nella price action ma se sappiamo tradare con la contestualizzazione ragazzi ci possiamo togliere grandi soddisfazioni perché entriamo con la precisione dei time frame piccoli ma abbiamo la visione di tutto il mercato perché sappiamo come siamo messi sul weekly come sappiamo come siamo messi su h1 quindi possiamo fare questo qui avevamo la possibilità di swingarcela perché eravamo a favore nei time frame più grossi vediamo dal weekly ecco vedete qua c'è andato addirittura più in alto c'è andato un massimo più grosso ma va benissimo così anche il take profit qua sopra vedete c'era fatto un minimo più grande nella zona di demand poteva reagire ma non siamo entrati sul weekly che avremmo preso un 1 a 2 per questo movimento siamo entrati su h4 h1 quindi ragazzi va benissimo e qua abbiamo fatto un più 20 anche perché non saremmo entrati a mercato per un po' di tempo però ragazzi non mi interessa mi interessa il profitto a fine mese e qua abbiamo preso una bellissima operazione ok lasciamo andare a rialzo adesso vediamo cosa succede comunque siamo belli in alto adesso per comprare quindi io non andrei a comprare ora sempre stesso discorso perché siamo ai massimi potrebbe il mercato riposarci magari se la troviamo un'entratina intraday si potrebbe provare a fare ecco io proverei a mettere un'entratina qua che ancora non ce l'ha presa questa candelina qua sell to buy che ci è andata poi a rompere questi ultimi massimi come prima ce l'ha sporcata ma potrebbe ritornarci giù proviamo a mettere l'entrata qua con lo stop sotto il rifiuto ovviamente anche qua arrotondiamo quindi 51 ecco lasciam 50 in questo caso qua molto intraday quindi lasciamo un con take profit così dal massimo ok vediamo ci è tornata qua ci ha preso lo stop ecco a stop anzi è invertito qua ha preso lo stop è invertito perché magari vuole iniziare ad andare al ribasso le entratine intraday sono più rischiose così la dominance è diventata ribassista eliminiamo un attimo qua anche questo vediamo un attimino cosa possiamo fare niente il mercato qua ci sta continuando ora andare a rialzo perché ci ha cacciato tutta questa liquidità che aveva accumulato quindi potrebbe essere un continuo un riaccumulo per il rialzo quindi se la dominance ora ma è diventata di nuovo rialzista io qua voglio provare a comprare perché questi sellers che mi vanno rotto quest'ultimo minimo sono stati rotti dai buyers quindi poi io riproverai a comprare un riaccumulo il mercato vuole arrivarci si vede ancora più in alto vediamo cosa ci vuole fare vediamo cosa ci fa qua ci rompe tutto bello prepotente qua è partito è rialzo vedete ragazzi qua abbiamo messo solo un take profit se l'avessimo lasciato ancora più avanti questa non sarebbe un 1 a 10 che è ottimo niente da dire ma sarebbe un 1 a 20 però con i secoi ma non si fa niente qui nei backtest mettiamo solo un take profit se no parzializzavamo e vabbè ecco qua ragazzi questa è un'immissione molto importante perché da qui parte questo siluro che mi ha rotto tutti questi massimi precedenti e qua c'è già la candela su h3 vediamo un attimino h4 h3 h2 eh su h2 bella grossa su h2 quella migliore andrei a prendere questa di h2 per entrare a rialzo visto che ci ha fatto il riaccumulo 71 diventa 80 con lo stop sotto la candelina come sempre e vediamo dove finisce il massimo metterei il take profit dal massimo visto che siamo un po' in alto però ci ha fatto questo riaccumulo il take profit lo vado a mettere dove poi inizia a riposare il prezzo è salito ancora ok ora sta iniziando a riposare ecco questo è il massimo qua ora ovviamente vediamo i livelli psico qui c'è il 52 tondo 52 tondo tp ok vediamo se ci torna perché sono tanto potenti potrebbero anche non tornarci invece stanno andando giù stanno riposando vediamo se ok c'è la presa vediamo che per ora il momentum promette bene il momentum dei sellers è molto deboli rispetto ai buyers che sono partiti belli potenti vediamo un attimino cosa fa terra il take profit lì sopra dal massimo vediamo un pochino ci sta accumulando ok è ripartito qua si poteva fare un'altra entrata però vabbè sempre stessi concetti questi massimi da chi sono stati rotti da un'emissione che parte da qua ok si prendeva questa candelina nera con lo stop sotto e qui si faceva un'altra entrata questa era di nuovo già adesso un 1 a 5 per farvi capire come sempre questi concetti per questo che dico non complichiamoci la vita con concetti strani rinventati conosciamo bene la price action questa è l'entrata vediamo un po' se ci arrivano a tp perché stanno un po' cazzeggiando stiamo un po' cazzeggiando ci sono arrivati da questa emissione dove potrebbero già comunque reagirci perché siamo veramente tanto in alto io sposterai il take profit un attimino ora il daily ce l'ha già ce lo spoiler ma io lo andrei a mettere un po' più basso visto che siamo ancora in corsa se ritocca qua la riva da chiudere qua ora facciamo le cose un est ormai qua ce l'ha toccato quindi semmai ci prendiamo break even ma se ritocca qua io lo andrei a chiudere qui ragazzi perché non è scontato che ci faccia un massimo più grosso perché siamo veramente tanto in alto vediamo un attimino anche se magari ci perdiamo del profitto come prima se poi ok io qua la chiuderei anche se va più sopra 100% onesto quindi 6% abbiamo fatto un 1 a 6 scusate abbiamo fatto un 12% ora speriamo per non rosicare che non vada tanto più su e qua già avremo fatto di più qua continua ad andare su vabbè comunque noi qua l'abbiamo chiusa ecco qua inizia ad andare giù visto che dobbiamo contestualizzare bene visto che siamo tanto in alto ragazzi io non andrei a mettermi un take profit in un nuovo massimo perché appunto come già avevamo visto prima siamo tanto in alto ora il mercato ci deve riposare andiamo sul daily ad esempio vedete sempre stessi discorsi massimo minimo massimo più grosso ora potrebbe riposarci a ribasso va benissimo lì anche se potevamo fare magari invece con un 6 e invece con un 12 scusatemi un 15 un 16 poi bisogna vedere se continua ad andare a rialzo io la lascerei così ok lasciamo andare avanti vediamo cosa ci fa il mercato comunque siamo a il 28 il 30 agosto ok ci ha rotto tutto meno male quindi che l'abbiamo chiusa qua potevamo fare un po' di più ma meno male perché appunto siamo in altissimo vuole andare a ribasso vediamo un pochino se ci dà l'opportunità di vendere oppure dopo che ha fatto questo riposo se vuole andare a rialzo di comprare qui aspettiamo un attimo e vediamo cosa ci fa il mercato si continua lo short ci ha cambiato dominance qua questi buyers hanno rotto quindi io proverai un'entratina long perché ci sta dando le conferme che ci dà di solito ha riposato un pochino potrebbe riandare a rialzo anche se mi aspettavo un ribasso più più grosso qua questa è bellissima questa sell to buy che ci va a rompere tutti questi massimi questa struttura precedente ok quindi vado a prendere questa number theory 81 vabbè 81 lasciamo 80 ragazzi va benissimo posizione long stop sotto il rifiuto e qua take profit visto che siamo belli swing a favore anche qua dal massimo anche se è un 1.22 bello tirato anche dall'inefficienza qua vediamo un attimino ora cosa ci vuole fare il mercato saliamo ci ascendiamo su h1 andiamo niente qua ci ha preso lo stop ci ha cacciato un po' di liquidità qua sotto e poi è andato a rialzo anche qua abbiamo preso uno stop dove però la direzionalità era giusta solo che ci ha cacciato lì sotto ok vediamo che giorno è ecco finito finito al 5 e peccato per questo stop ma vabbè ci sta ragazzi va benissimo per tutte le operazioni che abbiamo preso cioè per il rischio che abbiamo fatto il rischio di rendimento che abbiamo fatto con le operazioni del profit però gli stop che abbiamo preso comunque erano sempre di direzionalità giusta ecco facciamo un calcolo quindi abbiamo tradato 5 mesi 5 mesi abbiamo fatto 1 2 3 4 5 6 operazioni 6 operazioni che voi potete dire eh sono poche a parte che non ci pagano a ore ma non ci pagano a quattro quantità ma a qualità seconda cosa abbiamo fatto praticamente un'operazione al mese di media ma un trader non trada solo un pair già se tradiamo 5 6 10 pair avremmo fatto 5 6 10 operazioni e va benissimo poi non dobbiamo assolutamente guardare le operazioni ma al profitto perché appunto se faccio 20 operazioni ma vado in perdita mi girano i coglioni scusatemi la parola non riesco a vivere di trading se perdo i soldi se ne faccio magari 4 5 6 con un pair magari con 5 pair sarebbero stati già una ventina va benissimo e va di profitto è quello che vogliamo fare noi alla fine del profitto 6 operazioni abbiamo preso 1 stop loss 2 stop loss 3 stop loss 3 stop 3 stop quindi abbiamo perso un 6% un 2% ad operazione e abbiamo preso quanti tp abbiamo preso 1 2 3 tp quindi quindi praticamente il 50% di win rate ora abbiamo fatto troppe poche operazioni per calcolare il win rate ma il 50% solo che i 3 tp abbiamo fatto un 12 vedete come già con un'operazione saremo in profitto è questo il rischio rendimento è questo il bello di saper analizzare così capire tutti i movimenti del mercato e essere competenti in quello che facciamo senza operare con un occhio tappato perché possiamo toglierci delle soddisfazioni 12% qua 20% qua abbiamo fatto 32 e al 12 qua di nuovo 32 più 12 44 con i 3 tp abbiamo fatto un 44% di profit ragazzi tanta tanta roba in totale 44% ha fatto 6 perso abbiamo fatto un 38% di profitto vedete che non c'entra quante operazioni abbiamo fatto un 38% in 5 mesi ragazzi quant'è praticamente un 7-8% al mese cioè capite con solo un pair fare un 7-8% di media al mese per chi conosce l'interesse composto sa anche come un 5% fisso costante da qua a 10 anni ti può rendere ricco però ovviamente i soldi non cadono dal cielo e 6 anni che faccio trading ho sbattuto la testa giorno e notte per anni sul grafico prima di saper analizzare così ho speso un sacco di soldi in formazione meno male che l'ho fatto perché oggi appunto non sarei qua e non riuscirei ad aver questo ma tutto questo per dirvi che appunto non è facile non è così ti metti domani fai il 38% così in un giorno fai il 50% no non è così il trading diffidate da chi vi dice che il trading sono soldi facili Lamborghini robe no si può avere la Lamborghini col trading si assolutamente si può guadagnare bene si si può anche vivere a Dubai col trading come tutti i fuffa guru però c'è differenza tra il fare i soldi facendosi il culo o chi vi dice che fa soldi dopo un giorno che si sveglia e decide di far soldi così facilmente comunque ragazzi spero di avervi fatto passare un'oretta piena di informazioni e che vi siate anche divertiti che questi concetti vi siano serviti vi abbiano aperto un po' il cervello vi ricordo che sul canale c'è formazione specifica di ogni concetto che abbiamo visto perché ci vuole tanta formazione vi richiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti